Allora vedo le squadre che stanno entrando, io direi che ci siamo allora, 2592 ore fa, o forse qualcosina in più, o forse se preferite 108 giorni fa si giocava la finale della Summer Cup della Got League, nel frattempo però si sono aggiunte altre due squadre che vanno ad arricchire ancora di più lo spettacolo e le aspettative di questa manifestazione. Qualcuno direbbe benvenuti nelle tenebre, noi invece diciamo benvenuti nel paradiso, decolliamo con la Winter Qualifier, Got League, buonasera da Amatoshi e da... Buonasera dal pancio ragazzi! Red Lock contro Fucina, ed è il primo match, chiederei alle squadre di fare il regresso assolutamente, insieme agli arbitri, sigla! Sì! Mamma mia che tensione! Mamma mia! E' palfabile! Mamma mia! Ah quindi riconferma anche degli arbitri! Riconferma degli arbitri, l'arbitro più alto è Europa, che l'abbiamo qui qua! Allora andiamo alle formazioni, un attimo che le scopriamo! Andiamo a vedere le formazioni con Stackeeper, poi Alessandro Albertotti, Alec, vediamo la tv, l'eclettico, poi c'è Gimignani, centrocampista preso dal draft, poi Giderio, Fichera, poi Maseo ci racconti un po' cosa è successo col Fichera, Abe, Just Ron, Cristian Volta, Muscardelli, Davide ovviamente non ha bisogno di presentazioni, Zac, Sergio Cruz, Carnovale, allenatore ovviamente, Mario Sturniolo, poi andiamo a vedere la fucina! Io vi sto, vedo! Guarda che bell'abbraccio tra Faina e Sturniolo prima che arrivino alle mani, questo è un bel messaggio! Le cose che fanno male però al calcio! Ma perché Faina sta venendo? Faina non ha anche capito da che parte... Faina è dall'altra parte! È dall'altra parte, signor Faina! Di là! Ma questo non è mai entrato in un campo di calcio! Incredibile! Ci sono tutti là! Nella mia panchina c'è gente a caso, in più, non so che ruolo... Allora, vedo che... Un attimo che andiamo in... Momento carte perché ricordiamo... Allora, voglio ricordare una nuova regola delle carte che... E qua spero che gli allenatori la sappiano, mi sentano, che praticamente le carte non possono essere più usate in contemporanea! Azza! Il counter era un po' sbroccato, eh? Sì, anche perché uno annullava l'altra, ma d'altronde noi abbiamo sempre detto, chi non cambia ed è un coglione! Sbagliamo, miglioriamo! Allora, bisogna trovare un nuovo motto, eh! Eh, ma esce, non li riesci a preparare! Il capitano dei Redlock ha preso la sua carta e la conserva segretamente... Gelosamente! E anche il capitano della fucile... Io volevo ricordare che in questa partita, anche la prima partita è stata dell'altro torneo... Sì! E diciamo che c'erano stati degli attriti tra Sciscione e Mario Sturgnolo che rivediamo... Vediamo! Aspetta, prima impressione a caldo dell'allenatore? Il nuovo allenatore, Faina! Che a me non piace per nulla la composizione del calendario... Vabbè, 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 vabbè... Faina si è trasformato in punch e ha fatto un calendario totalmente folle! Partiamo svantaggiati totalmente... Svantaggiati di una persona incompetente come punch! Può fare i complimenti per gli occhiali! Un bel messaggio da dare ai propri giocatori! Allora, vediamo un attimo... La panchina della fucina! Perché stanno... E la dirigenza è più ampia di sempre! Posso fare una piccola direzione veloce? Ragazzi, però, un attimo perché stanno per partire... Stanno per cominciare... Allora... Bangal è in nazionale! Bangal è in nazionale! Bangal è in nazionale! C'è Mario Ferri... Sì... Poi vediamo... C'è il Falco, c'è Bobbi... C'è Pici in panchina! Bobbi Abale, ragazzi, occhio! Ah, Pici in panchina! Prima notizia sconvolgente del... Eh, ragazzi... È la mossa del Faina! È la mossa del Faina che comunque... Vediamo anche da questa... Da questa postazione... Si guadagna quasi subito la... Le sonne... Ha bisogno di mille aiutanti! Allora, ragazzi, ci siamo, Ema! Per cominciare... Red Lock contro Fucina! I campioni in carica contro l'ultima... Classificata dell'ultima Got League... Mamma mia! Stiamo aspettando soltanto il fischio... Cioè, sulla carta è una partita imbarazzata! Sulla carta, ragazzi... Ma c'è la ruota! È bravo! Via! E allora si comincia con... Let's go! Il Fichera che prova ad raggiungere il pallone... E lo recupera però la Fucina... Occhio! Subito, attenzione! Parte la conclusione... Va bene, va bene! Ragazzi... Belle Italia! Occhio al due, ragazzi! Detto Bobbi Abale, gli ho già dato il nome! Bobbi Abale, perfetto! Cioè, lui in realtà come si chiama? Paolo Abale! Beh, Bobbi si è perfetto, ma quando ti chiami Paolo... Pulla Abale! Attenzione, subito carta! Attenzione, attenzione, attenzione! Attenzione! Carta chiamata subito dalla Fucina! Mamma mia, il Faina come gioca! Rigore presidenziale! Mamma mia! Manfredi! Ma se non finisce, ho appena mangiato! Eh, va bene! Mario! Attenzione, Manfredi! Mario, cosa ne pensi di questo rigore presidenziale chiamato subito dalla Fucina? Pensa come stanno messi, che vogliono partire col più uno, poverini! No! Faida dice di portare rispetto, buffone, buffone dice Faida, già buffone al... Sta bevendo, si sta idratando... Beh, è bella questa tattica qua, eh ragazzi, però di partire subito 1-0, vedremo! Ricordo che Manfredi ha fatto un gol nella sua vita nella scorsa edizione, e gioca attaccante, tra l'altro, in terza categoria, perché... Vediamo quindi il rigore presidenziale con Manfredi... Poggers! Che andrà... Poggers! Ci sono 10 secondi, eh! Hai fatto la pazza? Sì, 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 sì! 10 secondi per fare il rigore, eh, lo shot-out! È cambiato! È cambiato! Sì, posso dire che a me questa roba qua... Per velocizzare, dici? Sì, però rompe i coglioni, tutte ste regole... Poi sai cosa? Io noto che il regolamento intossica lo sport! Cioè, devi fare a spagna! Libertà! Esatto! Vediamo allora, si parte! Con Manfredi e contro Insta Keeper, lo shot-out! Corsa straordinaria di Manfredi! Insta Keeper! Mamma mia! Mette il piedone! Giotto! Giotto! Chi è che ha un lato gol? Mario Sturniolo nel mio microfono! Sturniolo? Sturniolo è esaltato! Sturniolo con... Eh, Sturniolo con la... Forse quella pacatezza che era sempre contro il Sting! Eccolo, tra l'altro! È già fuori dall'area tecnica, è già in Zanomi, non lo so! No, no, l'area tecnica... Manfredi ha corso più veloce per arrivare in postazione rispetto allo shot-out, incredibile! Si riprende quindi con il rilancio direttamente per... Attenzione, Moscardelli! Tocca il suo primo pallone alla Gottlieg, il numero 9 del Red Lock. Abe ricomincia dal suo portierone Insta Keeper, Albert Occhi, l'eclettico, era stato soprannominato nella scorsa edizione. Vedremo se quest'anno riconfermerà scatto per Moscardelli. E poi c'è la grandissima chiusura da parte di Abdel. Difensore preso al draft. Ancora Abe, Albert Occhi, Alex, in verticale a cercare Moscardelli che deve girarsi. Forse c'è un fallo, infatti viene fischiato. Aia, aia! Prime polemiche! È la sua mattonella! Ma cos'è, ragazzi, avete una vergogna, oh! Ma che ha fischiato? Faccia in buffonele! Ma questo l'hanno chiamato per rompermi coglione a me, Faina, no, capito? Attenzione, io il pubblico sta fischiando, eh! Ragazzi, la fischina della Faina della fucina è incredibile. Spiegate a Faina che non è a teatro, però, eh! Beh, che fallo è, dai, hai ragione. Ragazzi, 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 siamo ritornati all'anno scorso qua. Attenzione, attenzione, punizione. C'è anche il Fichera, però, eh, sul punto di battuta. Se la batte il Fichera io mi alzo e me ne vado. Potrebbe battere il Fichera. Voglio la conclusione di Moscardelli. Come? È meglio dello shot-out. Si aspetta il fischio. Conta i passi, sospiro per Moscardelli. Parte con il mancino! Il Mosca! Ma che ha fatto? L'uomo dalla barba dell'eroe. La barba dell'eroe. Ben tornata a God League. Mamma mia. Moscardelli. È sempre lo stesso film. Una volta si chiamava Bungal, oggi si chiama la barba del God. Mamma mia. Andiamo a rivedere il replay. Gustiamocelo. Una bordata di mancino terrificante. Nulla da fare per Nardone. Secondo me non l'ha neanche vista partita. Non sa neanche di aver subito gol. E quindi ora la fucina. A detta di tutti, la favorita. È già sotto. Redlock 1, fucina 0. Mario con pressing. E diciamo che tra l'altro la fucina si è già giocata la carta. Esatto, esatto. Vabbè, che poi era magari controproducente. Non è detto che era una cosa. Attenzione, parte il cross in mezzo. Sergio Cruz non riesce a rinviarla. Poi in stacchi per decisivo. Citerio. Grande. Bravo. Grande fucina. Vabbè, chiamata VAR. Attenzione, chiamata VAR. Chiamata VAR. Chiamata VAR. Ma Faina, ragazzi, no. Spariamo a Faina. Beh, non si può. Ma che fa? Ma che fa? Ma che fa? Omi, sì. Ma che fa? Faina. Chiamata VAR. Chiamata VAR da parte della fucina. Di Faina. Sento della polemica, ma c'è il VAR. Beh, avendo Faina in panchina non l'avrei mai detto, tra l'altro, no? Vediamo quindi cosa succede. Tocco di mano. Vediamo l'arbitro che va al monitor della VAR. Adesso, ragazzi, stiamo togliendo la musica in sottofondo. La stiamo togliendo. Ah, non rimane come sottofondo? Sta arrivando, sta arrivando. No, no, la vi leggiamo già, ragazzi. No, ma perché? Togliamo la musica. Vediamo, allora. Io non ho capito nulla. Eh, ma nemmeno noi. Dalla postazione. Te lo dico io? Dalla postazione. Tocco di mano. Dicevi? In area di rigore da Sergio Cruz, a quanto pare. Tocco di mano di Sergio Cruz. che in effetti ci ha messo un po' a rinviare. Eh, guarda che c'ha quella faccia, sai, del furbettino Sergio Cruz? Che non ho fatto niente, sono brasiliano. Sono bravo. Mo' vediamo. Vediamo, però. Quindi la fucina si è giocata tutta. VAR e KART nei primi cinque minuti. Sì. Letteralmente. Fra un po' protesta perché le ha finite. esatto. Quindi siamo già a un punto cruciale del match perché se poi... Allora, posso dire una cosa? Mi ricorda un po'... Regia? Pulisic come cosa. Io vorrei chiedere ai nostri moderatori, adesso che ci vediamo al replay, se secondo... possono fare un pool in chat e chiedere se era rigore. Il pool è la piscina. Paul. 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 Però è bello che ti va a dire. Eh, ma Paul è... Come su Tekken, Paul. Tignino più attaccato. Paul. Ancora più attaccato così? Non sbrega. Credo sia la decisione più difficile di sempre per un arbitro perché è tarda ad arrivare. Vorrei vederla, eh. Eh, guarda. Cioè, cioè, dieci persone in panchina della... La Lega nasconde le immagini, eh. Di Manfredi. Cos'è? Attenzione, attenzione. C'è... C'è un compronto durante il VAR. Primi cinque minuti, prima minaccia, si è messo a un centimetro... Allora, Mario Sturniolo sta dicendo... Domanda. Mario Sturniolo sta dicendo questo, l'allenatore dei Redlock... Non c'è l'arda, quell'angolatore. La polemica è che Sciscione ha fatto così. Questa è la polemica di Mario Sturniolo. Attenzione, attenzione, attenzione. Ho sentito, non c'è il tocco. Attenzione. Allora, ragazzi, non c'è nessun tocco e nessun rigore. Incredibile, quindi decisione scandalosa di Faina di chiamare il VAR. Chi aveva visto? C'è bruciata una carta, c'è bruciata. Se rimane quindi sull'1-0 per il Redlock, che l'hanno sbloccata con il Bomber. Su punizione, Moscardelli, devastante. Manfredi, ma ci puoi dire come mai ci sono più... Dai, Spollini, dai, gioca! Ci sono più dirigenti rispetto ai giocatori. Che giocassero, basta. Adesso li faccio cacciare subito. Ci sono troppi dirigenti. Allora, ragazzi, vi sto leggendo in chat. Adesso, come vedete, ci stiamo settando, ragazzi. Contate che siamo sempre in live, ve lo dico, che è un evento impegnativo. Si ricomincia quindi con il pallone per la fucina. Come mai? Ah, perché l'avevano rinviata. Pallone lungo, direttamente a cercare Mario. Il cross, che comunque avviene con il colpo di testa, troppo debole allora il Fichera. Ma poi non puoi giocare senza pici, ragazzi. Che fa vedere i polpacci il Fichera. Poi Moscardelli, pensa ancora alla conclusione. Rientra sul destro. Grande giocata! Traversa! Traversa! Mamma mia, Moscardelli. Sergio Cruz, stavolta, non riesce a controllare. Ma Sergio Cruz va bene su TikTok. Quando vedi Moscardelli... Ma questo è zio Franco, non è Sergio Cruz che sta giocando. Mamma mia, Moscardelli, rivediamo il replay. Come direbbe ZV. Come direbbe ZV. Poi la racconteremo, abbiamo tempo. Allora, si ricomincia, si riparte con rilancio lungo a cercare... Occhio a Bobby, occhio a Bobby! Assezione, Bobbi Abale! E questa è una chiusura clamorosa di Citterio. Palla a terra, provano ad uscire il Red Lock. E' un c***o a terra, non so come se l'hai trovata lì. C'è tanto nervosismo in campo da parte della fucile. Noi che siamo vicini vediamo facce molto tese, mentre i Red Lock sembrano veramente una squadra che gioca a memoria. Occhio a Dak, occhio a Dak. Ma è appena iniziata. Eccoli qua. Lui sai come l'ho chiamato il 5? Frattini. Frattini e il Fideo. Attenzione però, la conclusione di Mancino di Abale. Bravo, bravo. Che sfiora il palo alla sinistra di Insta Keeper. Eh, Bobby ce l'ha quel colpo. Il primo squillo di Bobby. Ce l'ha a Bobby. Ce l'ha a Bobby. Allora ragazzi, occhio perché mancano 10 minuti, anzi 9 minuti e 30 alla ruota che potrebbe cambiare la partita. Attenzione ancora, Bobby! Bobby! Sempre con la conclusione di Mancino, sempre di pochissimo fuori. Bobby Replay, Bobby Replay. Bobby Replay. Ah, non era un replay? No, è il suo Mancino. Siamo veramente sfortunati. E allora i Red Lock provano a riorganizzarsi, ma devono stare attenti, devono abbassare la guardia. Allora, per chi lo sta chiedendo c'è ZV Jackson in regia adesso ragazzi, fra un po' parte quello serio. Vediamo ancora la... Vediamo Spolli! Che con il Mancino... Ma questo veramente ha giocato in Serie A? Siamo sicuri. Ma è lui? Ma no, sarà il fratello. Ma non è lui paleseverso. Se fosse possibile guardare la grafica degli expected goal, saremmo nettamente sopra. Eh, però peccato che conta quando... Però lo siamo su Ficca. Esatto. Rimessa laterale battuta dal portiere, direttamente a cercare il Mosca. Eccolo qua, gancio strepitoso. El Fichera che fa vedere i polpacci. Ci parte la conclusione. Attento Nardone sul primo palo. Nardone è un bel upgrade rispetto a Faina. Ah sì, quello è veramente. E anche il motivo per il quale stiamo una zeno, probabilmente. Fichera, cross, basso sul primo palo. L'abbiamo appena detto. E forse... Mamma mia! Poteva fare di più Nardone, ma la conclusione di Cruz Pereira finisce in rete. 2-0 per il Redlock. 2-0 ragazzi, Sergio Cruz. Eh, sembra lo stesso copione in questo momento. Posso dire una cosa? Dimmi. Forse Faina dovrebbe fare qualcosa, perché io vedo la fucina a Manfred che... Ma il Faina non sta neanche guardando la partita, mi pare. Beh, sua sa fare due storie su Instagram. Tunnel. Abel Tarapta è più tecnicamente forte di Messi, per lui. El Fideo. Calma, calma che manca tanto. Mancano una manciata di minuti e poi entrerà in gioco anche la ruota di Omi. Vediamo la grande azione della fucina. Tiro masticato, però, che finisce facile fra le braccia di Insta Keeper. E quindi i Redlock da campioni in carica stanno già conducendo 2-0. Mamma mia, ragazzi, mi piace molto come c'entrata. Calma, calma che abbiamo sofferto pochissimo. È bugiardo il risultato. Guarda come si muovono. Bobbi! Bobbi a vale! Proprio lui! Risultato bugiardo. Il ragazzo del Molise. Andiamo. Che gol! Grande Bobbi, ragazzi. Mi ha ricordato un po' Van Nister Roy con questa girata di manci... Mamma mia, è impressionante la velocità d'esecuzione. A me sarà il numero, ma mi ricordo un po' più Mimmo Callon. Non so se lo ricordate. Storico, tra l'altro. Aveva il 3. No, no, il 2. Era in giusto il 2-0. Forza! 2-1 per la cucina. 2-1. 2 minuti e 56 alla ruota, ragazzi. La prima ruota di questa edizione. Non hanno fatto che un angolo è una punizione, forza! Manfredi, non è in macchina, siamo in telecronica. Tenetevi i microfoni attaccati, ragazzi, Manfredi. Ce l'ho, ce l'ho. Ricordiamo che per ora hanno segnato solo nuovi volti. Uuuuh! Per entrambe le squadre qua arriva un pallaccio. Eh beh, guarda chi è, Junior Kelly. Va a chiedere le spiegazioni di Junior Kelly. Molto bene. Dice, ma io volevo farli male. Molto bene. E allora, vediamo il Fichera. Lato corto dell'area di gore. Il Fichera ne salta tre! E poi Nardone con un miracolo! Ma che giocata di il Fichera! Beh, anche Nardone qua molto bene, ragazzi. Nardone, bravissimo. Il Fichera, ragazzi, è di un'altra categoria. Mamma mia! Che l'ha fatto andare via così. Cioè, il tridente dei redlock è completamente nuovo. Il Fichera, Moscardelli e Sergio Cruz. Ok, all'angolo. Parte crossa. Cercare Moscardelli. Arriva dalla parte opposta. Abe, sulla tre quarti, prova a pensare al tiro, però allarga il pallone per Sergio Cruz. con il Mancino, respinto dalla difesa della Fucina. Poi se lo va a riprendere il brasiliano. Ancora lui. In slalom, col Mancino. L'Abe Maia! Sì! Grande cartone! L'Abe Maia stava per farlo, ragazzi. L'Abe Maia col parlo. No, l'Abe, l'Abe. Lui è Abe, allora è l'Abe Maia. Pronto Picci. Attenzione, cambio, ed entra Bomber Picci. Oh mio Dio, è loco Picci. Ed entra anche, ragazzi, Daniele Lamantia. Mister di zona, lama. Eh, possiamo dire che sono entrati due carcerati. Eh, a me piace come idea, però. Infatti vediamo la polizia che ha fatto il ringrazio. Folia tattica di Faina. Folia tattica di Faina. Perché deve mettere Rizzini qua. Vediamo, si rimane quindi sul 2-1 per il redlock. E allora il rilancio è lungo. Cercare la spizzata di testa da parte di Paul. Bobbi Abale. Ma è ancora il Fichera che sta consumando la fascia di sinistra. Lo fa di nuovo. È scappato di nuovo. Poi buona la cittura da parte di Abdel. Il muro. Il muro. The Wall. Beh, un soprannome mai sentito, tra l'altro, ma un difensore. Ma Mia Moscardelli qua stava per far saltare la testa al difensore. Per fortuna si è fermato in tempo. Ma perché? Ma scusate, ma Fichera? Cioè si è tagliato i... Per far vedere, non ci stavano i polpacci del placard. È così praticamente, no? È incredibile. È un mix tra il Tamarro e il giocatore. Ah beh. Per Sergio Cruz. Che rientra sul mancino. È la provata, eh. Occhio all'Abe Maia. È la prima simulazione della Got League. Occhio a Pici. Occhio a Pici. Ma vediamo Pici. E questo è un ballo. Il Mr. Dizzo. Che è evidentemente in difficoltà. Non è un video, voglio ricordarli. Attenzione, vediamo il Fichera. Che prova a puntare. Se ne va molto bene ad Abdel. Che comunque regge. In velocità. Ah beh. Che lì sta facendo un po' quello che vuole. In mezzo è letteralmente il professore. Sergio Cruz. Salta ancora. Il Fichera. Il Fichera. Il Fichera. Che va a fuggiare dove? Che fa? Che fa? Cos'è? Cos'è? No, è sopra, è sopra, è sopra. Bovisasca calcio. Vabbè, vuole farci conoscere la squadra dove gioca. È la squadra del suo quartiere. Intanto è finita la prima frazione di gioco. No, non è finita perché adesso è il momento che potrebbe cambiare tutto. Mi collego con il nostro general manager Omiatol. Allora, benvenuti al primo giro della ruota Powered by SESA Fan Club 2024. Sei teso? Sono teso. Solo per questo momento posso avere un ooooh. Oh, chiedo anche a tecuna, Donore, di farlo, per favore. Oh, 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 oh. Gira la ruota. Battle Royale. Battle Royale. Rispieghami in cosa consiste, Andrew. Allora, ragazzi, la Battle Royale praticamente è una delle nuove regole che abbiamo imposto, diciamo come sempre, visto che non siamo in democrazia. si parte sette contro sette sempre tre minuti dopo il primo minuto escono tre persone e quindi si rimane quattro contro quattro, poi dopo un altro minuto, quindi quando ne rimane uno, ne escono altri due, quindi si finisce in uno contro uno più il portiere, ok? Quindi sarà interessante qua, anche i mister chi sceglieranno, non so Andrea se vuoi andare un attimo a vedere Stavo parlando con gli alberi, andiamo un attimo dal direttore sportivo Ciscione Ciscione cosa ti pensa di questa batte royale e come vi siete organizzati? Ma diciamo che abbiamo studiato le nostre tattiche, quindi adesso aspettiamo di sapere quale sarà la carta e sicuramente sceglieremo quella migliore di certo faremo del nostro meglio per prendere un vantaggio in questo momento. Allora la fucina torna in campo mi sembra con gli stessi sette con i quali aveva finito? Allora, scusa Pancio io ho sbirciato un attimo il telefono di Manfre ed è al telefono con Augusto e dice ma che cazzo state facendo quindi non è molto contento il presidente No ragazzi, ma è una scelta ridicola questa che hanno fatto. Cioè quella di mettere così tanti attaccanti? Esatto, ma guarda Troppi. Ma poi c'abbiamo Rizzini fuori Quindi in campo chi è? Frattini Bobbiabale Esatto, poi c'è Picci, ovviamente Lama, Lamantia Akan, Hac, scusa Hac, che lo teniamo Akan Sì, e Junior Kelly E Junior Kelly Tra l'altro Junior Kelly In evidente difficoltà dalla serata di ieri Dalla parte opposta classica squadra dei Red Lock direi la titolare Sì, ma i Red Lock posso dire un brutto atteggiamento anzi un giusto atteggiamento dei Red Lock che quelli scarsi non li fanno giocare Mi sembra veramente Cioè lui c'ha quei sette lì Hanno la pettorina Finché non si rompono non li mette praticamente Finché nessuno chiede il cambio per fiato Ragazzi, ultimi tre minuti Non sa cos'è il calcio ma almeno fa le cose semplici Del primo tempo Ma questo lo dici tu che non sa cos'è il calcio La prima battle royale Sono un po' emozionato Di sempre della Gott League Perché potrebbe essere scoinvolgente una puttanata Oppure una puttanata E lì, siamo borderline Ma come sempre c'è il calcio d'inizio che sta per partire Classico, il Fichera contro Abale, Bobby Stiamo aspettando solo il fisco dell'arbitro che si sta dietro la linea Non ci sono cambi, eh Attenzione Non ci sono cambi Si parte quindi con il Fichera contro Abale direi che Bobby Abale Abale è mostruoso Vediamo ancora Lama che prova a farsi perdonare con il mancino Guadagna un corner 3-1 Red Lock e si è cominciati con i tre minuti supplementari dopo il giro della ruota Attenzione 40 secondi dopodiché ne escono tre ragazzi ricordo Parte il cross a cercare sul secondo palo vediamo però Moscardelli che gestisce da campione il contropiede lo fa con il pallone che arriva dalla parte opposta per Sergio Cruz che la mette giù alla Brasile e forse un po' troppo e qua c'è fallo lo commette lo conquista Junior Kelly Attenzione 16 secondi 16 secondi devono anche un po' velocizzare le pratiche perché cercano Pici ma ormai lo conoscono a memoria ricordiamo Pici occhio occhio tripletta l'anno scorso contro il redlock occhio al moscardelli va a giocarsi in uno contro mamma mia che ha fatto d'esterno sul secondo palo ah beh colpo di tacco di Sergio Cruz e poi Nardone che upgrade per la porta della fucina stop vedo che questa sia l'ultima azione dopodiché la palla che però viene recuperata da Insta Keeper stop 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 fischio dell'arbitro che non arriva c'è da fare uscire tre persone a squadra ecco li vediamo che escono quindi si rimane ragazzi tre contro tre esce anche moscardelli tra l'altro cioè io ed esce dalla prossima magari stoppiamo il timer su questa perché arriva ma possiamo anche già farla recuperare sì 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 allora per la fucina invece rimangono in campo Bobbi Abale Frattini e Abdel e Abdel vediamo molto conservativa la scelta da parte dei Redlock che provano a gestire il vantaggio più che andare a farne un'altra adesso che tre contro tre c'è campo davvero c'è campo davvero e il Fichera ultimo uomo Abe eh decidono di palleggiarla per il momento bella scelta sale anche Insta Keeper io non capisco perché non tengono Pici in campo spiegate Pici l'hanno già data per persa forse questa partita solo giocano attenzione però questo è uno schema chiaro lo scatto di Citterio bello l'anticipo di Fichi ancora come giocano bene i Redlock ragazzi mamma mia uno spettacolo vederli da vicino vediamo ancora la fucina con il pallone dentro se lo sono dimenticati Frattini Frattini è il Fideo Frattini proprio lui proprio Frattini la sua scelta e attenzione perché penso che sia passato l'ultimo minuto esatto abbiamo l'ultimo minuto uno contro uno vediamo le scelte dei presidenti degli allenatori scusate chi terranno in campo vediamo chi esce Frattini un metro ottantotto devono rimanere giocatore preferito Iaiature uno contro uno ricordo uno contro uno ma non sembra uno contro uno ma col portiere ricordiamo chiaro 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 ragazzi non è che sfermiamo il tempo la discrezione dell'arbitro è l'arbitro che recupererà tranquilla grazie Andre grazie mille uno contro uno ragazzi e c'è da una parte la Bemaglia e dall'altro Bobbi Abale Bobbi Abale e il portiere Nardone contro Abe e Insta Keeper 3 a 2 l'hanno riaperta quindi ha funzionato anche stavolta la ruota occhio che non è ancora finita c'è l'ultimo minuto vediamo Bobbi Abale che decide di prestare il portiere lasciando completamente solo Abe 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 il pallone sempre per Insta Keeper che pensa alla conclusione Bobbi Abale una linea un muro si rimane quindi sul 3 a 2 ma sempre con il pallone per il redlock e ora è totalmente un uno contro uno uno shot out Abe l'Abe Maia è proprio lui proprio lui che punge ancora una volta la fucina e ora siamo 4 a 2 non so quanto manca al termine della partita forse ci potrebbe essere un'azione della fucina vediamo se c'è ancora il tempo si Abe terzo gol nella sua carriera in Got League e vediamo però come se la caverà Nardone con i piedi pensa alla conclusione Insta Keeper troppo centrale forse questa conclusione troppo affrettata forse no ma siamo 4 a 2 per il redlock vediamo ricordo che questa è solo la ruota del primo tempo e ci sono già sei gol eh ragazzi occhio a Bobbi Bobbi prova ad andare sul suo mancino forse c'è fallo se la prende di mano e Abe chiede spiegazione all'arbitro battono velocemente ancora Nardone e questo è calcio di rigore che poi è shot out e poi è shot out forse no sai no 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 ho visto che ha indicato il dischetto ha indicato il dischetto eh no ma rigore non c'è c'è proprio shot out chissà rigore ragazzi cioè rigore shot out arbitro shot out però rimane lì in zona è proprio calcio di rigore no no non c'è il calcio di rigore nel regolamento e allora shot out quindi è meglio fare fallo in questi casi sì intanto siamo oltre 24.000 grazie a tutti i ragazzi in questo pomeriggio caldissimo siamo contenti abbiamo un po' di paura per il giorno diciamo invece 234 gradi ricordiamo tra l'altro al centro sportivo vediamo quindi vorrei fare anche complimenti a tutti quelli che oggi stanno lavorando ma nel frattempo ci guardano perché lavoro una merda attenzione vediamo Pola Bale parte col mancino Pola Bale va mette a sedere in stacchi Bobbi a Bale mamma mia 4 a 3 e si conclude un primo tempo ragazzi che come sempre regala emozioni Omi primo tempo ragazzi clamoroso mi andrei subito da Bobbi a Bale andiamo a sentirlo The Panther mamma mia aspetta aspetta questa replay scusate The Panther Bobbi a Bale quindi che ricorda un po' Bungal Masseo no? si questo shout out è stato un po' che mette a sedere il portiere con tanta classe andiamo a rivedere il replay quindi del numero 2 della fucina mettere a sedere in stacchi non deve essere una passeggiata lui l'ha fatto con una facilità estrema e poi si è assicurato di fare gol tirando una bordata da 30 centimetri devi un'idea perché c'è il mister sentiamo il mister e mister come le è sembrato questo primo tempo rocambolesco dei suoi ragazzi i ragazzi miei sono stati perfetti purtroppo non combattiamo solo contro i redlock ma anche contro il punch questa politica dei calentari ma anche contro una categoria arbitrale mediocre che purtroppo non ci fischia un calcio di rigore col Vare col monitor davanti è una cosa vergognosa e da un calcio di punizione per farlo su Moscardelli inesistente ma noi siamo i più forti di questa situazione andiamo da Storniolo viva la democrazia viva la democrazia lascialo lì che rompe sempre i coglioni per favore Mario vieni un secondo andiamo da uno felice che sta vincendo vediamo da uno tranquillo ci farai complimenti immagino Mario Mario cosa ne pensi di questo secondo cioè il primo tempo comandato e cosa pensi del secondo è andato bene speriamo meglio fammi fare lo schema va bene Mario ci sta scagazzando basta no è giusto che sia secondo me secondo tempo alle porte no perché secondo me sono più tesi del previsto quindi secondo me hanno usato questo momento per definire un po' di tatticismi di base alla Magnus Carlsen attenzione però ragazzi attacco a raggi X stanno rientrando le squadre stanno rientrando Manfred volete dire una cosa per il secondo anche alla Summer più o meno adesso non ricordo con precisione eravamo sotto alla Summer se non mi sbaglio è finita proprio 4-3 la partita 5-4 5-4 però c'era una netta sensazione che fossero solo gol di Pici e che loro fossero tanto superiore io ora questa sensazione non ce l'ho vabbè anche perché non lo state facendo giocare Pici quindi sembrare una scelta complimenti superiore no ma Pici è in campo in questo momento sì direi di sì quindi il secondo tempo se lo giocherà tutto immagino Bomber Pici sì la Fucina riparte uguale Pici al posto di Spolli no c'è anche Rizzini non so al posto di chi però mentre dall'altra parte i Red Lock ripartono hanno sempre forse c'è Zacchigno 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 al posto di Fichera giusto sì Zacchigno panchinato praticamente quest'anno no è un po' col fighe per non per scondere si parte il prescelto è Mario Ferri che di corsa se ne intende però viene superato da Citterio che quindi conquista il pallone per il Red Lock nel secondo tempo 4 a 3 per i campioni in carica però come dice Manfre vediamo un po' una Fucina un po' più squadra ci ha messo un attimo a carburare ma adesso con quel Panther là davanti Bobby ma 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 guarda guarda Pici guarda Pici come già va a prenderli alti questa è la differenza la vera sorpresa è Pici che non fa gol Pici è sempre in gaina ragazzi è un mostro com'è vederlo da vicino è fantastico una masterclass e allora il Red Lock con un passo un po' più tranquillo si mettono dentro ancora è qua Moscardelli è stato mangiato dal difensore vai a regalare falli dai Occhio al Fideo vediamo prova ad andare recupera Citterio che già nella scorsa edizione è stato uno dei migliori difensori Zacchino allarga il pallone per Fichera che però è presente ah beh sull'auto di sinistra è lì riconquista il pallone Bobbiabale che poi chiede troppo anche alla sua tecnica sempre il Fichera che perde il pallone Frattini lo riconquista grande scelta mamma mia il Fideo che ha fatto il Fideo Frattini tunnel totale a Zacchino umiliato Zacchino dal Fideo Frattini forse qua ci stava Faina vedo che chiede una munizione forse qua ci poteva stare attenzione si è presentata il draft con l'abilità speciale che è la suola Frattini ricordiamo il Fideo che ce l'ha fatta intravedere in questa giocata sta sempre lì a chiudere a dar fastidio e stavolta anche a commettere fallo stanno soffrendo chiede anche scusa gran giocatore mentre Picci un po' lamentoso non so per cosa no è proprio di contratto è dentro c'è nel contrario è una clausola in caso dovesse essere tranquillo via subito licenziato 13 minuti al termine di questo secondo tempo occhio al Fiche che da qua può provare ti ricordi il gol del Fiche dell'anno scorso lo ricordo molto bene da lì l'hai preso attenzione parte la bordata un gol pazzesco saranno 35 metri ragazzi l'arcere Ficheira mamma mia andiamo a rivedere che bordata ragazzi questa l'ha presa con le tre dita non c'è spiegazione mamma mia mamma mia long show l'ex giocatore degli Eternals occhio che prova subito Picci a rispondere ma non è facile e questo è un gol che trancia le gambe la fecina potrebbe almeno il Fiche cresciuto a quarto giaro ricordiamo con l'idolo Roby Baggio ragazzi c'è Dagli Ale sotto al sole si sta scaldando da 30 minuti Dagli Ale che potrebbe essere una soluzione obbligata per la fucina per poterla riaprire 12 minuti ragazzi sia la ruota che però potrebbe cambiare tutto perché magari esce occhio occhio non dico niente poteva fare di più il portiere forse o è merito solo di ma è 40 metri indietro la palla Maceo 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 si calmi si calmi ma è ancora più indietro di un metro Maceo è la prospettiva della cazzo di scorsa edizione che mette allora la prospettiva segniamo questo clima sempre cogliardico tra amici ed è solo la prima partita risultato finale cosa potrebbe essere allora è forse anche la prima volta che i Red Lock sono sotto pressione occhio occhio al Loco Picci da qua occhio al Loco Picci chiede la distanza ma chiedo io la distanza del pallone più indietro hai già rubato uno la scorsa edizione attenzione l'ammunizione per il Loco Picci ma i presenti possono essere ammoniti no ovviamente quindi hai libertà di espressione in quello che vuoi ma ci mancherebbe attenzione al Loco parte Picci la conclusione oh mio Dio non era male cosa ha preso cosa ha preso ragazzi non era male mamma mia i Stakip oggi veramente in palla ragazzi si è abbassato all'ultimo cross in mezzo allontana la difesa dei Red Lock mangiato qua il fiche 5-3 10 minuti al termine c'è un sacco di tempo c'è un sacco di tempo AC AIRUT si è tirato AIRUT se dovesse segnare vediamo era brutto era imbarazzato pallone in verticale a cercare Bomber Picci triplicato li portano via il pallone Moscardelli è già di là ma che chiusura AC ancora da parte di AC che acquisto che acquisto ragazzi vantaggio vantaggio ancora la fucina con Mario che mette in mezzo questo pallone rimbalza un po' strano riesce a finire tra le braccia di Insta Keeper poi Sergio Cruz colpo di tacco come si intendono quei due là davanti altro colpo di tacco un po' Brasil qua l'azione dei Red Lock non c'è fallo e allora prova ad andare 3 contro 3 attenzione 4 contro 3 la fucina attenzione lato corto dell'area di rigore sbaglia l'ultimo passaggio però Sergio Cruz bella la palla qui invece Moscardelli Moscardelli pensa alla conclusione se la deve portare sul mancino grande però la chiusura di un sontuoso sontuoso hack mamma mia che giocatore hack lì dietro devastante veramente the wall Bomber Pici da qua si è vista la mano ma noi proseguiamo Bomber Pici deviazione calcio d'angolo Masseo eh Masseo si è incazzato ce l'ha morto con Pici non è riuscito a comprarlo quindi lo insuica assolutamente attenzione entra Daiale attenzione la Got League Daiale il re possiamo dire un po' il nuovo Francesco Totti il numero 10 l'hai mezzo colpo di testa da parte di Spolli no non c'è Spolli non c'è Spolli scusate è Pici 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 scusatemi quindi adesso c'è la coppia là davanti Daiale e Pici Daiale e Pici 9-10 tra l'altro voglio raccontarvi una storia Daiale il numero 10 della Fucina 44 anni si è rimesso in forma da un mese per giocare alla Got League eccoci devastante vai 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 no perché ci sono delle storie nella storia certo ed è una storia meravigliosa quella di Hack che per ora è il difensore più forte che abbiamo mai visto occhio al Fideo e il Fideo pensa alla conclusione ma è un passaggio fantastico per la conclusione troppo centrale troppo facile per Insta Keeper troppo timida troppo timida è vero attenzione però perché gioca la carta credo Andrea giocano la carta dell'uscita del bomber Moscardelli attenzione no come Moscardelli c'è che se si gioca una carta contro si autogioca no la carta sì no ragazzi la carta del bomber è che vale doppio il gol l'arbitro è ubriato non ha neanche letto ha deciso lui no allora la carta del bomber giocano quindi se segna Moscardelli il gol vale doppio vale doppio ricordo che dura tre minuti la carta o se Moscardelli segna diciamo la verità stiamo facendo di tutto per non far vincere il redlock se lo toglievano probabilmente era meglio che gesto era da parte di Sturgnolo c'è altruismo totale praticamente non è paro Rizzini sul pallone quindi cos'è successo eh niente adesso palla fuori e vediamo un attimo se segna Moscardelli vale doppio se segna Moscardelli vale doppio quindi attenzione brutto fallo vediamo una possibilità vediamo Sergio Cruz se ha capito che deve darla Moscardelli sì la concorre Moscardelli ci ha messo 35 secondi mamma mia la barba della got mamma mia 6 a 3 di destro la piazza nell'angolino e indica il presidente andiamo a rivedere che angolazione sì ma siamo messi male in campo devastante 6 a 3 quindi adesso in questo momento la carta del bomba è annullata praticamente perché valla ha già segnato quindi siamo 6 a 3 non molliamo che c'è la ruota ah non vale sempre per un minuto è annullata appena si fa se fa gol o per tre minuti ok allora 6 a 3 per il redlock Zacchini se lo sono dimenticati tutti è provato ha provato ad entrare in area di rigore ora però mamma mia come è scollata la cucina fa fatica scollatissima secondo me vogliono portare alla ruota ma così rischiano di arrivarci male 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 la ruota Sergio Cruz cosa sta succedendo? attimi un po' coincitati mi sembra che stiano litigando in campo mister di zona compaina ricordo al pubblico forse ha bestemmiato con tre gol di vantaggio un giocatore se ne va fuori ed è uscito Sergio Cruz esatto bravo grazie Matteo che ci ricorda il regolamento infatti è qui per questo ricordiamo vediamo Bomberpitchi per Rizzini almeno in un in più la cucina ce la farà? no in due addirittura perché sono a più quattro ah ok quindi sono in due in meno adesso i redlock praticamente il gol valeva doppio di Moscardelli sì no in un in meno in un in meno perché siete più tre no siamo sette tre vale doppio il gol siamo sette tre allora ragazzi c'è da aggiornare la grafica siamo sette tre no ha fatto gol era quattro cinque era quattro cinque sai che non lo so siamo a sette tre sì giusto sette tre sette tre quindi due in meno due in meno due in meno allora io voglio che allora torniamo un attimo alla cronaca perché Daiale ha toccato il primo pallone alla Got League e quindi siamo contenti stavamo litigando sul punteggio in realtà ragazzi comunque avete ragione voi in chat sette a tre in questo momento l'abbiamo anche aggiornato e quindi i redlock in due in meno due in meno parte la conclusione non era male sicuramente era potente calcio d'angolo c'è stata anche una deviazione quindi andrà a batterlo il numero sei della fucina Rizzini quattro minuti alla ruota per la fucina ragazzi ancora Rizzini lato corto mette fuori giocano di prima Daiale ha le spalle alla porta il numero dieci un po' lento allora recupera la palla si è fatto male il redlock forse si è fatto male andiamo a vedere no sembra aver ripreso la corsa ah beh anche in quattro i redlock stanno mantenendo molto bene il possesso del pallone la fucina non pressa pur essendo no ti va bene così ti va bene così puntano alla la differenza reti evidentemente Fucinopoli arriva un fischio Fucinopoli Piccinopoli c'è il video c'è pure il video ha detto buttati per terra è un pagliaccio è un clown attenzione dai 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 non fa niente ma sta tu glielo dici negli spogliatoi e questi eseguono c'hai una squadra che si butta per terra come gli aliti non si capisce un cazzo vedi è calcio vai a fare balletto allora per favore pare che non è calcio esatto hai sbagliato il centro sportivo di differenza occhio sventagliata di 79 metri per Abe che non riesce a controllare ricordiamo che dalla tv sembra piccolo ma il campo è enorme sì il campo è più di un campo a 11 non so se dopo la regia quando ha tempo può stringere su Asso di Roma che lo vedo veramente al sole in condizioni importanti vediamo la fucina che con passo lento quasi con Menefreghismo va alla conclusione da lontano sempre lui è Fideo comunque il più pericoloso frattini io credo veramente che la fucina in questo momento sia completamente in palla colpa probabilmente del suo allenatore sì 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 delle scelte imbarazzanti ancora si riprende con una rimessa laterale con Hack ah no no è fallo è fallo è fallo quindi viene battuta no qualche secondo dopo c'era sempre Hack sulla tre quarti offensiva si propone l'amantia lama dei mister di zona simulazione clamorosa anzi no è fallo è fallo anche Moscardelli protesta guarda come salti Abbe Abbe trattiene lo sente tutto lo stadio va zitto vaffanculo ma la fucina sembrano tipo la Roma di Mourinho perché si alzano tutti ogni fada attenzione c'è la possibilità per il tiro da dimenticare da parte di Hack abbiamo trovato qualcosa che non sa fare Hack tirare tirare no beh magari ci sconvolgerà durante il torneo però due minuti al termine set a tre redlock che stanno dominando questo secondo tempo due minuti alla ruota tra l'altro due minuti alla ruota che comunque aveva riavvicinato un po' la fucina sì ma perché sono due e meno in meno chiedono in chat sono due e meno ragazzi perché praticamente quando sei sopra di tre gol sei in due e meno quando sei sopra di tre gol sei in uno in meno sopra di quattro gol sei in due e meno e questo è il regolamento attenzione e questo è un gran gol Salmaso Andrea Salmaso la salamandra la segna ancora la salamella un altro e adesso ragazzi cosa succede è che adesso che sono sotto di tre i redlock ne rientra uno quindi saranno sette contro sei Salmaso ventun'anni e aveva fatto quattro assist nella precedente edizione quindi questo è il primo gol dallo scorso draft in chat dicono cartellino rosso a sciscione non so se l'arbitro vuol prendere provvedimenti se potete dare un cartellino rosso a tutti quelli che abbiamo fatto Andrea ma possiamo andare in panchina dei redlock per capire un attimo cosa succede andiamo in panchina dei redlock cosa sta succedendo io vorrei sapere anche Ron come sta loro aspettano la ruota un po' di male Ron si è fatto male Ron il capitano un po' scombussolato il problema lo sai cos'è il problema è che qua non mi vogliono far entrare parli col capitano perché le strategie si sentono in tutto lo stadio vabbè ho capito è il bello della gota noi eravamo due in meno strategie ragazzi non c'è bisogno di fesi con questi ragazzi qua ma chi sei? un amico vabbè ma hai visto il capitano l'allenatore capitano just run capitano just run ancora non l'ho vista in campo ma io sono infortunato quindi do supporto alla squadra ma qua non c'è nessuno che sul campo ma quella è realmente la panchina dei redlock però non abbiamo nulla come notizie allora Sergio Cruz Pereira come si trova nella sua nuova squadra? allora per adesso benissimo i ragazzi stanno aiutando abbiamo dimostrato di essere squadra e questo è importante azze dichiarazioni importanti Andrea ma adesso c'è la ruota andiamo alla ruota c'è la ruota finale piccolo cooling break piccolo cooling break manca un minutino e mezzo manca un minutino e mezzo infatti anche io ragazzi ma doveva già giuro 15 minuti a tempo c'hanno pure bisogno di fare il cooling break ma c'hanno è una rosa di 35 giocatori esatto poi il Maseo ne mette in campo 7 cioè non è che è colpa nostra che si devono c'ha anche ragione perché il red non c'è è rotto è rotto Ron non c'è è rotto ma non li voleva far giocare perché ha preso dei fenomeni guarda che Giastron ragazzi siamo pronti per questa ruota si sa fa il club 2024 Faina è molto vicino Faina vediamo cosa uscirà io sogno il 2 contro 2 community sceglie la chat che deve scegliere quindi la chat ragazzi sono da creato un pool lo lanci tu Andre io ti dico per questa volta puoi scegliere ragazzi la carta community praticamente saremo una volta io una volta Andre che scegliamo due spicchi della ruota Andre se vuoi iniziare tu a quale scegliere ma io scelgo il 4 contro 4 guarda mi tengo sul tranquillo però devi scegliere due alternative così possono votare al poll scelgo il 4 contro 4 e lo shout out lo shout out lo voglio vedere ha provato ad indirizzare la scelta allora lanciamo il pool in chat che dai nostri moderatori 4 contro 4 o shout out per terminare questa sfida in caso di shout out praticamente ragazzi si tiene il punteggio così com'è e si vanno ad aggiungere i gol che vengono fatti ah io le mancavano due minuti 5 shout out a squadra se non erro chiedo a Dante se può andare un attimo dal direttore di 3 shout out 3 3 già mi dicono mancava forse del tempo mancava forse del tempo quindi se noi avessimo se noi avessimo una community allora se tu lo dico non è un torneo democratico ok cioè non rompe dei coglioni è così adesso c'è il votate al pool è partito il pool in chat è partito andiamo a vedere no non è ancora partito non è ancora partito non lo vedo io se noi avessimo eccolo qua votate e vediamo come vota ma tu voti pancio chiaro che voto ma tu voti shout out è come il 91% delle persone tu cosa voti io voto lo shout out anche lei ma il shout out è contro di noi sì perché matematicamente possiamo massimo pareggiare sì quindi la nostra chat dovrebbe votare contro sì ragazzi io in chat vedo tutti che dicono shout out 4 contro 4 tutti a votare 4 contro 4 secondo me è capace che ne prendi altre 4 l'altra 4 secondo me la chat ti vuole bene dice magari con lo shout out qualcosina io sognavo lo dico ad Andre Super Santos no vorrei inserire totalmente a buffo Andre magari durante la competizione tanto abbiamo tempo quello che un 3 contro 3 ma solo VIP non calciatori ah bello solo content creator bello mi piace no così voglio vederlo in campo pezzo di merda se no metti solo i calciatori ah beh Sergio Crozza creator allora hanno votato ragazzi vince lo shout out almeno che insomma direi che possiamo terminare già al pool Andre e quindi direi all'allenatore di scegliere i 3 che andranno a calciare lo shout out cosa vuole Junior Kelly che è là cosa stiamo facendo Junior Kelly secondo me c'è là con noi pensa che c'è Ragnar qua e allora insulta buffo non lo so allora sei pronto? vediamo perché allora per il redlock vedo Moscartelli e Sergio Crozza ma perché avevo finito prima questo secondo allora ragazzi ricordo le regole che per tirare gli shout out che saranno 3 ogni squadra dovrà scegliere un creator una scelta del presidente e uno dei draft ok così abbiamo le 3 e serve veramente il miracolo qua da parte di Nardone eh Nardone qua deve diventare decisivo assolutamente per la fucina perché se no chissà se va là a disturbare un po' come a me piacerebbe quei portieri scusa tipo che va lì a farmi cazzare eh sì bravo mi senti mi senti omi non penso ma ti sente non è che sei dal telefono ma non solo omi ti sente ma mi fai spiegare dall'arbitro perché abbiamo finito uno e mezzo prima cioè allora per favore staccate il microfono a manfredo o comunque la fucina rompe i coglioni un minuto e mezzo è una partita di uno che sta perdendo ma di che cosa stiamo parlando nel calcio abbiamo giocato un minuto e mezzo in più il recupero ma lascialo stare il recupero di prima è rimasto a zero per non so quanto tempo stanno per partire gli shot out attenzione vedo la fucina mi sembra che abbia scelto Picci Junior Kelly e Bobby Bobby Abale The Panther mentre i redlock non capisco i redlock sono in 55 bello è emozionante secondo me stanno facendo la bibò perché il calcio è tanto uguale io devi farei tirare tutti e tre prima la fucina sempre a lacrimare la fucina però deve segnare mezzo meno va bene vediamo l'arbitro che parlotta si sta avvicinando sta avvicinando con un passo lentissimo chiedo la chat chi ti fate se siete più della fucina o più dei redlock facciamo un poll un poll ma come va facciamo un poll a Bale un poll a Bale in chat un poll no io vorrei vedere l'emote vorrei vedere l'emote dai vediamo un po' di di spammini di emot preparate vediamo quindi partirà partiranno in redlock che se dovessero segnare è finita allora ragazzi visto che state dicendo dei ladri in chat vi ringrazio perché per me è un onore poi andrò dall'arbitro a chiedere il motivo attenzione parte chi è che parte il redlock credo è il no chi è che c'è è proprio lui il bomber Moscardelli prova con il doppio passo e questa è una grande la prende l'ardone e la fucina c'è ancora c'è ancora la fucina c'è ancora la fucina e ora tocca a Insta Keeper contro credo Bobby Abale proprio eccolo qua Bobby Abale The Panther che ha già segnato in questo match e deve tenere viva deve tenere vive le speranze della squadra di Manfredi anzi no forse è Picci eh sì credo sia proprio Picci ringrazio la squadra di Redlock non ci fa vedere nulla parte Picci con una finta si rimane ancora in gioco no e finisce quindi con una parata tecnicamente da parte di Insta Keeper protesta Picci attenzione ragazzi Mario Sturignolo va davanti alla panchina le scene che che un po' piacciono a Pancio va a speffeggiare la panchina giallo allo Sturignolo è una partita giallo all'allenatore giallo all'allenatore attenzione un attimo andiamo in campo da Omi ragazzi vai Omi perché qua ho deciso di ammonire Mario Sturignolo perché è iniziato a salutare molto in maniera da paraculo gli avversari quindi ho deciso di ammonirlo in primis seconda munizione per il general manager dopo Jay Pata Mario Sturignolo una partita derubata completamente l'altro l'altro torneo per Manfredi allora questo diciamo che allora saranno due attenzione perché c'è Andrea scusami un attimo ma c'è delle proteste della fuggina ma che caso che strano Junior Kelly Junior Kelly e Pici molto animale Junior Kelly e Pici vedo anche delle minacce c'è l'arbitro che gli sta ridendo in faccia giustamente arriva anche Mario Sturignolo perché giustamente serve uno che placa gli animi già strano è infortunato ma ha la forza di andare a loro che lingua parlano nella fuggina tra l'altro tipo chiederei alla regione di mettere i sottotitoli cos'è successo attenzione attenzione perché c'è l'abito che mi guarda tu Junior Kelly è il più animato non l'avrei mai detto un ragazzo che di solito sembra a questa buone tranquillo allora ho visto un pallone lanciato da Spolli Mario attenzione dicono Sturignolo è incazzatissimo posso dire che è iniziata a colpiglio giusto è quello che piace a noi è quello che piace a noi ragazzi derubati allora credo che per mezzanotte Fucina Redlock finisce io ho un goccino da fare perché mi sono bevuto molta acqua quindi chiedo almeno di fare pace in campo ragazzi in modo che riusciamo tutti un minuto e mezzo in meno un rigore valido non dato ma stai sempre a piangere ti abbiamo rifatto i sorteggi perché volevi rifarli abbiamo cambiato la competizione gira tutto intorno alla Fucina mamma mia Fucina protesta attenzione ragazzi ancora un momento di tensione comunque è passato un po' così automaticamente uno shootout terminato di conseguenza è regolare quello che ha deciso l'arbitro grazie al nostro Giuseppe di Rovenal Giuseppe che ha anche io l'ho vista Andrea raccontacelo un attimo perché noi non sentiamo così Giuseppe Giuseppe puoi rifare un attimo un recap ricordiamo che lo shootout termina quando il tocco del portiere fa tornare il pallone indietro rispetto se vuole andare può andare sembra un po' Bonucci andiamo avanti per favore nessuno nessuno vuole accettare che Moscardelli a Bale sbaglino e Pici scusate andiamo avanti con la cosa andiamo avanti dai ragazzi però veramente la Fucina c'è la Fucina imbarazzante Andrea mandali in campo per favore mandali in campo anche all'arbitro ma cosa stanno protestando ragazzi tra l'altro vi dico che tutte queste parti extra usciranno poi vediamo andiamo a rivedere ma l'ha toccata l'ha toccata deve andare indietro ma deve andare indietro è andata in avanti ma cosa dici che è tornata indietro dai Manfred su è evidente ragazzi dai è tornata indietro è tornata indietro mi dispiace per il loco Pici Manfred guarda Pancio siete la sua squadra della favorita no Andre porta lì dentro stanno facendo una polemica su nulla per favore se no Nardone Nardone venga scusatemi Vara è chiamata una partita basta Nardone Nardone mi prova quindi anzi sta ritornando in porta il prossimo è Sergio Cruz cioè questi stanno guardando le robe sul telefono ma veramente c'è Faina incredibile ma per la Fucina speriamo che la facciamo domani perché è lunga quando c'è la partita allora per favore che sono le 5 Sergio Cruz parte Sergio Cruz contro Nardone Nardone Sergio Cruz direi che la mette lì esulta la CR7 eccolo qui chissà come l'ha presa da Sperandio di questa esultanza perché lì che sta guardando l'ha minacciato però questo ha proprio fatto vedere come si battono gli shot out la Fucina senza neanche protestare ora però adesso tocca ai mister di zona credo no no Junior Kelly Junior Protesta Kelly possiamo chiamarlo così il Signor Protesta prova lui ecco vediamo se ci illumina o se sarà imbarazzante due tocchi tre tocchi e la butta fuori l'imbarazzo 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 ma è andato avanti guarda Ragnar come gode la sopra che sta mamma mia io lo farei ribattere no hai tutti i coglioni vediamo l'Abe l'Abe Maia quindi l'ultimo rigore dei Red Lock no mi sa che ne fanno cinque sai ah cinque l'Abe Maia Abe Abe mamma mia ancora l'Abe Maia che esulta così e l'Abe Fica viene fuori il cinema Fichera e Abe quindi due su tre per il Red Lock Fucina umiliata Fucina ragazzi nove a quattro e finisce comunque per la differenza ci teniamo a battere anche l'ultimo perché comunque più in là ma lo faremo vedere su YouTube dai questo qui non serve a nulla ma poi tra l'altro Huck non sa prendere la porta Huck e invece lo fa l'NVP della Fucina finisce qui quindi questo match ringraziamo anche a Cristo però allora Masseo quanto è finito questo match? è finito nove no no dieci a quattro nove a cinque forse con questo ultimo gol nove a cinque per il Red Lock allora veniamo qua da noi regia ragazzi vediamo intanto il Red Lock il Red Lock è come se avessero già vinto però sì sì campiones posso dire una cosa secondo me questa parte devo andare a chiedere un'informazione all'arbitro posso? un attimo un attimo rimaniamo un secondo qua però metta via il portafoglio volevo chiedere volevo chiedere a Dedo prima uscita chi hai trovato più in forma e cosa ti è piaciuto di meno della tua squadra? ma in forma fiche l'ho visto bello carico caldo eh mi è piaciuto molto invece quella cosa che dice no in realtà niente niente siamo stati bravi dai gli stacchiperi anche molto in forma assolutamente sì ma sono contento nel complesso sono contento nel complesso la squadra gira bene siamo un po' Mosca centrica Mosca giustamente ma dai scusa Mosca ha anche sbagliato lo showtout è vero che ha sbagliato lo showtout però ha fatto il gol del dopo cioè molto protagonista attenzione perché vedo un personaggio non raccomando stanno arrivando uno dei mister di zona minacciando Manfredi 50 euro con un set di coltelli portafoglio e cellulare ma da solo da solo attenzione che succede prego 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 entri pure senza che minacce gli do già tutto perfetto e se ne va così mister di zona Manfredi invece lato tuo male male il mister forse qualche scelta sbagliata sì qualche scelta sbagliata nel momento cruciale non malissimo i due acquisti della come si chiama del del redlock no del draft fortissimi tutte e due ho fatto veramente grandi scelte Abdelac e Frattini abbiamo una bella squadra devono essere più equilibrati anche caratterialmente e il mister deve fare più ricordiamoci che abbiamo giocato contro la favorita e il nostro scopo è passare il girone quindi le vere parite nostre iniziano dopo ho visto delle buone cose su cui ci si può lavorare c'è qualcosa sul mister invece sul modulo quando si è secondo me ha sbagliato che a un certo punto quando eravamo sotto solo o di uno o di due ha iniziato a mettere una squadra squilibratissima addirittura Daial e Pitch insieme che a sette è impensabile metterli perché stai giocando due in meno quando attaccano gli avversari vorrei iniziare da questa edizione posso dire una cosa ragazzi voglio dire una cosa che praticamente probabilmente questa edizione qua è il secondo perché il fiatone il secondo derby occhio il secondo derby tra Fucite e Redlock secondo me lo dico ai presidenti dato l'agonismo in campo ricorda un po' un derby sudamericano lo possiamo chiamare derby questa partita questo scontro assolutamente è il classico è il classico prima partita sempre e per i due presidenti speriamo non l'ultima contro speriamo speriamo posso dire una cosa Manfred perché la fucina a me al contrario dei Redlock che hanno una gerarchia hanno quelli che sono i titolari e gli altri zitti muti che se devono entrare fanno nella fucina mi sembra che bisogna dare il contentino a tutti far girare tutti facendo impassare un po' in questo Faina ha sbagliato vai a parlare con il tuo preside e con il tuo allenatore ringrazio sia il Masseo che Manfredi tra l'altro adesso vi andiamo ragazzi chiedo ai moderatori di spammare i link anche Instagram degli account sia dei Redlock che della fucina che magari ci sono degli outro che non abbiamo visto ci vediamo dopo presidenti grazie grazie